buongiorno dolcezze allora vi registro questo video proprio velocissimo per dirvi che il 16 febbraio si è concluso il giveaway io ho assegnato un numerino ad ogni vostro commento che avete lasciato e adesso andremo insieme a fare l'estrazione sul sito random.org quindi io riprenderò insomma col cellulare mentre faccio l'estrazione dal tablet quindi in bocca al lupo a tutte e magari ci rivediamo alla fine del video ciao eccoci qua allora siamo sul sito random.org ho già inserito i numerini siete state in 53 a partecipare e adesso andiamo a vedere chi sarà la fortunata vincitrice la numero 38 adesso vado a vedere subito chi è ed ecco qua chi è la vincitrice la numero 38 è rosinella quindi complimenti rosinella la cosa che devi assolutamente fare è contattarmi o su instagram o sulla mia pagina facebook trovi tutti i link nel info box oppure se vuoi commentare sotto a questo video non c'è problema lasciandomi la tua email che io passerò a bb craft che di conseguenza ti contatterà e vi potrete mettere tra di voi d'accordo per tutto una cosa che non vi ho detto di solito bb craft scrive l'email in inglese quindi se non siete tanto pratici usate google translate e vedrete che andrà tutto a posto aspetto tue notizie rosinella ancora bravissima sei stata fortunata e noi ci vediamo al prossimo video ciao